Musica Dall'Austria alla Corea, fanno il giro del mondo le due mostre organizzate al Miki in occasione della Kermesse di Argilla che andrà in scena dal 2 al 4 di settembre. Un contesto che cresce ogni anno a Faenza e che si prevede porterà in città oltre 50.000 persone. All'interno della cornice di Argilla quest'anno due importantissime mostre provenienti una dalla Corea e una dall'Austria. Sì, questa è la dimostrazione dei rapporti internazionali del Miki con Gmunden e il simposio di questa cittadina austriaca. Abbiamo una tradizione ormai da diversi anni, è la terza volta che ospitiamo questo incontro di residenza d'artista, un incontro internazionale che quest'anno ha avuto partecipanti da tutta Europa. 10 gli artisti selezionati da una commissione internazionale, anche in questo caso, dove ha avuto modo e piacere di partecipare. La mostra cerca di porre l'attenzione ad un fare contemporaneo all'interno di una tradizione, perché Gmunden ha una tradizione di oltre 300 anni, di ceramica d'uso. Invece, quello che hanno proposto questi artisti è scultura vera e propria e quindi anche lì un cortocircuito tra la produzione locale e quello che invece è stata la riflessione che questi artisti hanno portato in termini di attualità e di contemporaneità. La mostra di Gmunden è visibile qui al Miki non solo per i giorni di Argilla, ma anche fino alla fine di settembre. In questo caso il Miki si pone quindi come una piattaforma di visibilità per questo simposium? Assolutamente, noi rientriamo in una rete, abbiamo fortemente voluto questa relazione con Gmunden, anche perché riteniamo che questa sia una residenza d'eccellenza internazionale e quindi il Miki che accoglie le eccellenze, ed è un'eccellenza lui stesso, deve appunto guardare a queste possibilità di confronto. Anche perché, come dico sempre, una mostra non solo è la visibilità di artisti, ma anche mostrare quello che è la ricerca. In questo caso questi artisti contemporanei hanno mostrato veramente una grande capacità di misurarsi in sole quattro settimane con un territorio, con una produzione, mostrando la loro poetica e dialogando tra di loro, quindi creando veramente dei lavori eccellenti. In scena una mostra proveniente anche dalla Corea e in questo caso parliamo invece di tradizione. Sì, infatti è diametralmente opposta la scelta della Corea, con cui invece il Miki e la città di Faenza hanno anche in questo caso dei rapporti di scambio culturale. Una mostra di 20 pezzi legati alla tradizione coreana, tradizione di lunga data, che come sappiamo i primi pezzi datano 8.000 anni fa. La Corea è stata un po' il paese di eccellenza, che ha insegnato molto anche alla Cina e al Giappone e che ha una tradizione legata a tre linguaggi, la porcellana, il seladan e il bunchon, e che sono espressi in questa mostra in maniera eccellente. Abbiamo avuto la possibilità anche di avere ospiti e per questa occasione tre maestri, che per loro vengono considerati tesori viventi e che hanno in questa occasione donato le opere esposte per arricchire le collezioni del museo. Quindi siamo molto soddisfatti di questo rapporto che porterà nel 2017 ad altri contributi di scambio e di riflessione culturale, chiamiamoli così. Come funziona questo simposium? Ogni due anni questo simposio ha luogo a Gmunden e 10 o 12 artisti da tutta Europa vengono invitati. Questi artisti, e sono tanti di tutta Europa, vengono scelti da una giuria. O delle volte qualche membro porta un artista per conto suo e possono lavorare cinque settimane in un posto senza essere disturbati, quindi liberi di creare quello che vogliono. Una giuria alla fine discute e sceglie di nuovo le opere che verranno esposte. E poi queste opere vengono esposte in vari posti e questa volta inizia la mostra qui a Frenz e dopo va in altri luoghi. All'interno del contesto di Argilla sono esposti anche 20 opere d'arte proveniente della Corea per documentare la straordinaria ricchezza della loro ceramica coreana. Che cosa avete portato? Siamo felici di partecipare a Argilla 2016 e onorati di aver potuto allestire questa mostra al Museo Internazionale della Ceramica di Frenza. Le opere sono realizzate da ceramisti e qualificati maestri specializzati nella fedele riproduzione degli stili tradizionali coreani. Che significato ha per voi la produzione della ceramica? Per noi produrre la ceramica vuol dire che andare avanti il nostro passato per promandare ai nostri figli e nipoti. Per questo motivo a dimostrare a voi le nostre ceramiche siamo molto felici. Per il primo anno la regione Emilia-Romagna collabora a fianco alla pubblica amministrazione di Frenza per Argilla. Come mai questa scelta? Intanto noi abbiamo sempre affiancato il MIC nello sforzo che ha fatto e abbiamo anche aumentato il nostro impegno negli ultimi due anni. Adesso la scelta, questo ci è consentito anche da un aumento delle risorse che abbiamo a nostra disposizione perché riteniamo che Argilla sia un grande appuntamento anche per la capacità di attrazione internazionale. E come ho avuto modo di dire, l'arte e la cultura sono un veicolo fondamentale in un'epoca buia, fra l'altro, per poter abbattere confini, creare ponti e confronto fra culture diverse. Il MIC e Argilla, nello suo specifico, hanno consentito anche di sdoganare la ceramica e l'arte ceramica da quello che poteva essere nell'immaginario collettivo qualcosa di antico, qualcosa di polveroso. Lo ha fatto misurare con la contemporaneità e con l'arte contemporanea dando alla ceramica finalmente una grande dignità appunto al pari delle altre arti contemporanee nella possibilità appunto di porsi al centro dell'attenzione anche internazionale. Quali sono gli obiettivi quindi dell'assessorato per il prossimo anno? Che basi si stanno ponendo? Noi come assessorato della cultura ormai abbiamo costruito un'architettura che in questi anni si è andata via via consolidando e per noi è stato fondamentale in questi anni investire sulla capacità di creare cultura, di creare arte, facendola misurare anche con la capacità della cultura e dell'arte di creare intorno a sé sviluppo economico, attenzione, occupazione, creare un ambiente intelligente per le nostre comunità dove la cultura, l'arte, lo spettacolo sono la sovrastruttura che permetta alla struttura, all'hardware di crescere e di crescere anche in termini economici. Noi abbiamo puntato su questo convinti come eravamo che questo potesse essere diciamo così lo strumento fondamentale per dare quel quid in più alla nostra già grande ricchezza di capacità produttiva della nostra regione dandogli anche un substrato come potremmo dire umanistico che rende ancora più forte il nostro prodotto, il nostro prodotto made in Emilia Romagna che è forte perché ha in sé anche un elemento forte di componente emozionale e culturale. Argillà è una cremessa sempre più internazionale. Sì, i due terzi dei partecipanti sono stranieri quindi questo chiaramente rende Argillà il mercato più importante in Europa forse anche nel mondo con le sue caratteristiche di produzione artigianale ceramica. Al MIC abbiamo appena inaugurato due mostri uno dei coreani e uno dei austriaci di Gmunden amici da tanto tempo e questo fa sì che appunto la nostra attività sia sempre più imperniata in queste collaborazioni estere con altri centri di cultura per rendere più internazionale chiaramente più unita poi in realtà il mondo della cultura, il mondo della ceramica. Collaborazioni che vanno avanti da anni ma che se poi si aggiungono anche crescono quali sono i prossimi obiettivi? Beh, dunque a Argillà oltre al fatto che la Francia, la città di Obagna che è anche un'altra delle città con le quali noi abbiamo una collaborazione da tempo è l'invitato ufficiale però c'è una forte delegazione portoghese che per esempio non era mai venuta c'è una delegazione russa, c'è una delegazione di indiani e come voi sapete sono credo 15-16 paesi europei e extraeuropei che prendono parte di Argillà quest'anno. Vogliamo ricordare un'iniziativa importante del MIC quest'anno? Ma sì, abbiamo pensato di devolvere le entrate del museo durante il periodo di Argillà al terremoto recente che c'è stato nelle Marche della provincia di Rieti. È chiaro che non è che sia granché, non è che purtroppo potremmo fare molto però ognuno di noi deve riuscire a dare qualcosa e credo che ci sia anche un collegamento fra quei territori la ceramica ci unisce tutti anche loro hanno delle zone molto, città di famose di ceramica negli intorni e quindi credo che comunque una fratellanza oltre che territoriale sia anche legata diciamo così con un filo a questa nostra arte che ci accomuna. Grazie a tutti